Il pompelmo è una pianta sempreverde appartenente alla famiglia delle rutacee originaria della giamaica delle isole antille ma coltivata in tutto il mondo comprese le isole italiane è stata ottenuta dall'incrocio fra il pomero e l'arancio moro ma sta diventando una specie a sé stante che produce dei frutti invernali cresce bene nelle zone con temperatura fra i 20 e 28 gradi a un'altezza di 5 o 6 metri ma può raggiungere anche 15 metri alle radici profonde a fittone le sue foglie sono alterne e con piccolo picciolo spinoso numerose nella chioma e lunghe circa 15 centimetri i fiori sono bianchi con quattro pettari il frutto è una bacca globosa riunita in grappoli di 10 15 centimetri di diametro con la polpa divisa in 11 14 spicchi racchiusi da pareti membranose sottili di un pallido color giallo con la buccia gialla o arancione rosato e liscia la parte interna della buccia è bianca e spugnosa il sapore della polpa del pompelmo è amarognolo più accentuato nella varietà gialla meno nella rosa la polpa contiene dei semi simili a quelli del limone le fibre contenute nel pompelmo combattono la sitichezza mentre un amminoacido di cui è ricco fa bene contro l'insonnia un uso regolare del pompelmo fa ridurre il colesterolo cattivo e migliora il funzionamento dell'apparato cardiocircolatorio grazie alla grande quantità di sostanze con azione antiossidante contrasta l'invecchiamento precoce delle cellule e previene disturbi urinari riduce l'appetito e contribuisce a facilitare la perdita di peso previene la flatturenza combatte la spostatezza fisica ed è consigliato a chi fa sport perché conferisce una maggiore energia fisica è un miglioramento della resistenza per la quantità di vitamina a e c che contiene il pompelmo è un valido aiuto per gli occhi migliorando la vista e prevenendo nelle malattie comuni con l'avanzare dell'età il pompelmo viene consigliato per ridurre il rischio di tumori al coron e ai diabetici per tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue il succo di pompelmo viene suggerito contro gli stati febbrili e l'insonnia come alimento disintossicante il pompelmo ha proprietà disinfettanti e stimolante dell'apparato digerente un cucchiaio di succo di pompelmo in una tazzina di caffè è un ottimo analgesico la buccia del pompelmo contiene olio essenziali che svolgono un'azione antidepressiva il frutto è ricco di vitamina c le cui proprietà antiossidanti proteggono l'organismo da virus e batteri soprattutto nelle malattie da raffreddamento il pompelmo può essere utilizzato anche per uso esterno sotto forma di olio essenziale che essendo stimolante può essere usato insieme all'olio di mandorle del germe di grano e dell'olio di cocco per massaggi finalizzati a migliorare la circolazione in aromaterapia l'olio essenziale rende più allegri e ottimisti inoltre si può aggiungere qualche goccia in un bicchiere d'acqua contro le infiammazioni e sanguinamenti gengivali le afte e problemi di aritosi la grande quantità di potassio presente nel pompelmo fa abbassare la pressione sanguigna e favorisce un miglior funzionamento del cuore prevenendo l'ictus l'estratto di semi di pompelmo si usa prevalentemente per curare l'infezione da funghi muffa e anche da virus e in modo particolare per la cura dell'infezione provocata dal fungo candida albicans che si diffonde normalmente quando il nostro organismo è sottoposto a pesante stress e danneggiamento della flora batterica a un uso prolungato di antibiotici l'acido citrico presente nel pompelmo aiuta a prevenire i calcoli urinali e a facilitarne l'espulsione l'estratto di semi che si trova in commercio in polvere liquido rinforza il sistema immunitario attacca i parassiti dell'intestino e si usa per le infezioni interne della pelle e dell'occhio e della bocca ha effetti benefici sugli stati repressivi di ansia e di stress il suo profumo sembra possa ridurre la sensazione di fatta